salve a tutti siamo qui su questo account in particolare di mia moglie che la mia prima diretta la prima persona che ho invitato il knife minor quando ho capito il potenziale di questa azienda prima ovviamente non non ho diciamo non ho fatto non ho parlato a nessuno è la prima persona a cui ne ho parlato è praticamente diciamo è diventata una dei miei delle mie delle persone su cui sto lavorando ne ho più di una chiaramente su questo lavorando per per portarla a fare carriera e fare anch'io carriera perché per fare carriera qui deve aiutare almeno due persone a fare la stessa cosa in questo momento come interesse di casa dato che ci sono delle particolari diciamo vantaggi per chi fa rete che praticamente in questo caso diciamo ottiene la bellezza di invece del doppio il triplo di quello che diciamo dei pacchetti di acquisto che ha messo il doppio direttamente dal mailing il triplo diciamo il questo 1 per in più dalle acceleratori che gli vengono dalla dei propri collaboratori dato che fino al 25 è in fase di pre lancio ancora 5 per quindi non più non 3 per ma ancora 5 per ho fatto questa rapidissima guida su come andare a versare in questo caso 3 mila dollari per avere la possibilità di ritirarne 15 mila 5 volte tanto 15 mila dopo il 25 saranno comunque 9 mila non è uno scherzo assolutamente però approfittiamo di questa opportunità ancora aperta che segnalo a tutti quindi cosa dobbiamo fare semplicemente cliccare praticamente sul pulsante dire che vogliamo mandare 3 mila dollari non c'è il pulsante 3 mila benissimo allora che cosa facciamo diciamo che vogliamo andare 2 mila e poi mandiamo di più non 5 mila perché sarebbe troppo questi sono i dati io posso averli anche in italiano e quindi posso cliccare qua selezionare lingua italiana automaticamente vengono cambiati e quindi vediamo tutte le regole diciamo per l'acquisto del piano di mining un un acquisto del piano di mining presente contratto e accettazione dell'acquisizione del piano di mining contratto viene stipulata live mining una società di tokenizzazione per l'operazione di mining di criptovaluta e acquirente presente contratto entra in buco reale data di accettazione si impegna a concedere una licenza non esclusiva non trasferibile e revocabile per utilizzare la potenza di elaborazione del mining bitcoin come specificato nel piano di mining che ha scelto acquistando i nostri piano di mining riconosce accetti i termini di condizioni stabiliti presenti accordo per gli utenti non chiede i termini di utilizzo della piattaforma si legge di leggere attentalmente sul termine il nostro sito https life manner punto tech prima di procedere parlami della piattaforma utilizzo della piattaforma acquisizione di piani mining dove noi possiamo avere tutta una serie di guadagni almeno il 200 per cento di quello che che abbiamo con un minimo del 0 2 per cento al mese e insomma tutta una serie di ulteriori regole che chiaramente abbiamo già letto quindi cliccata i termini e procedo dopodiché procederemo con il bep 20 o meglio abbiamo le tre più grandi criptovalute al mondo ma sono criptovalute che oscillano quindi noi preferiamo assolutamente le altre tre opzioni che sono sempre usdt queste tre opzioni una in block chain bep 20 non ci confondiamo col bnb che ha la stessa block chain è capitato già tre volte che qualcuno legge cercasse solo a bep 20 leggendo dall'altro si fermasse qui non se se io voglio mandare usdt non devo scrivere cliccare su bnb devo cliccare su b usdt bep 20 lo so che è ovvio però già è successo tre volte quindi lo ribadiamo clicco qua sopra se non avessi il bep 20 potrei usare il rc 20 che un'altra bloccina estremamente veloce è l'estremamente economica ovviamente qua pago il 70 per cento in meno qui pago un dollaro qua pago 33 centesimi il 67 per cento in meno se poi non ho nulla nessun tipo di questi bloccanti più avanzati o solamente la vecchissima rc 20 vabbè vuol dire che pagherò un sacco di provvigioni ma a questo punto per completibilità c'è anche questa ovviamente non conviene conviene fare di tutto per evitarla quindi usdt bep 20 clicco e mi compare direttamente il qr code quindi che cosa succede che io basta semplicemente che vado sulla fonte del mio reddito diciamo sull'exchange dove ho questi soldi versati e inquadro questo codice oppure copio questo indirizzo quindi è semplice copiato lo posso copiare così se non sono convinto lo ricopio un'altra volta comunque alla fine ho il qr code copiato adesso posso andare col telefonino inquadrare e fare l'operazione però così facciamo vedere anche come fare ecco io questi soldi li ho guadagnati da life minor e ho fatto anche trading quindi li ho moltiplicati facendo trading però sto facendo trading a gennaio caricando da gennaio e facendo trading a gennaio ho comprato sono uscito a 48 mila comprato molto bene uscito a 48 mila sono rientrato un'altra volta facendo emozioni tutto un lavoro enorme ed è uno dei modi con cui si valagna ma è un modo difficilissimo dove il 95 per cento delle persone non ci riesce bisogna essere degli esperti aver frequentato aver studiato molto io frequentato molte accademie però comunque ho guadagnato alla fine 300 400 500 euro in tutti questi mesi quindi la consulente informatico che tiene anche corsi trading dico signori l'impresa è pesante si può fare sicuramente ma ci sono modi più comodi come quelli che stiamo andando vi sto facendo vedere da un punto di vista informatico come si possono utilizzare poi io sono anche consulente di alcuni consulenti finanziari per cui indipendente parlate con loro con i vostri consulenti e potete andare a fare questa diciamo eventualmente valutare questa opportunità non sono io che vi deve dire se farla o meno assolutamente andiamo quindi nel mondo delle cripto apriamo by bit che appena visto è già aperto quindi non bisogna neanche di fare l'accesso e questo praticamente questa posizione ho ritirato praticamente tutti che lena 2800 dollari d'acqua ho preso altri 200 dollari lo prese da da by bit ecco qui vado direttamente a vedere gli asset in questo momento come asset in ho lasciato 19 euro in trading cap dove sta facendo lavoro e sono da prediente in questo momento invece sono nell'account principale pronti per l'invio se voi avete i soldi in trading non li potete inviare fino a che non li avete spostati dell'account principale ecco qui devono stare neanche in unify trading eccetera non stare in fondi per poter uscire ok quindi adesso io prendo questo denaro sono 3.016 dollari e faccio ovviamente per per versare su wallet io devo ritirare da questo wallet quindi faccio withdraw cosa usdt che indirizzo incollo l'indirizzo incollo l'indirizzo si è perso l'incoso ritorno un'altra volta qua e lo copio di nuovo ho tasto adesso copia o command c o control c se siete su praticamente su windows command su mac control su windows wallet address incolla eccolo qua dopo di che qua ci sono gli address book ovviamente non non facciamo gli address book chain type attenzione non sbagliate perché come un e come una un treno se noi mandiamo il treno sul binario sbagliato quello deraglia se prendo un treno a monorotaglia lo mando su un su un binario quello deraglia che si distrugge il treno la stessa cosa o viceversa un treno fatto per il binario lo mando su un motorotaglia anche quello deraglia noi io devo mandare ogni treno sulla sul suo binario quello giusto quello opportuno per lui la stessa cosa la block chain la block chain dice è giusto è sbagliato se è giusto accreditare soldi se è sbagliato cancella l'operazione i soldi sono persi rimediabilmente quindi attenzione non sbagliate la block chain quindi abbiamo detto che abbiamo usato il bet 20 diciamo che stiamo usando bet 20 diciamo che sul computer se ne accorgi anche sul cellulare invece no quindi state molto attenti dopo di che devo mandare tutto no io non devo mandare tutto devo mandare tutto 3000 più il l'un per cento sarebbero 30 dollari il lo 0 lo 0 5 per cento e la metà del 1 per cento e la metà dei 30 dollari e quindi 3.015 più le fii quante sono le fii 30 centesimi diciamo che mando 30 centesimi in realtà io ho già un account ho già ho già 26 centesimi potrei anche mandarli meno io però ho piacere di lasciarlo quindi lo lascio lì ecco qua quindi adesso siamo pronti per fare l'operazione abbiamo siamo qua abbiamo l'operazione virgola 30 perché qui ci sono 30 cd almeno qualche spicciolo sulla causa anche se mancevi c'è un errore che mandiamo ci dimenticassimo no di mandare i 30 centesi qua qua non andrebbe bene perché ce ne avevano solo 26 qui dobbiamo evitare di dimenticarci perché poi non partono i 3.000 che vogliamo partire ma manda di meno quindi allora 3.015 virgola 30 dico conferma dico conferma ovviamente lui mi dice commissione di deposito dallo 0 5 l'unica commissione che noi paghiamo non ce la dimentichiamo questa quindi sono 15 dollari una sciocchezza dico conferma e a questo punto posso dire non verifica necessaria la prossima volta perché è perché accanto di mia moglie quindi potranno succedere altri diciamo versamenti allora prima di tutto quella dice manda un codice di edifica sull'email quindi andiamo a prendere la mail col telefonino più veloce quindi vado sul telefonino bellicea quelli aggiornamenti non è ancora arrivato perché non mi manda allora dice c'è qualche problema ecco la verifica no 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 non voglio essere facciamo ripartire video allora diciamo che evitiamo di archiviare perché quanto vale cosa c'è qualche problema può essere anche un errore ritorniamo qua copiamo il codice se per caso il problema il telefonino facciamolo col telefonino e dentro il codice autenticator io uso auti per il bit copia consenti 130 219 sono molto pignoli se tu per esempio lo fai che stanno per scadere ed arriva a scadere molti quasi tutti non accettano il codice più ecco qui quindi faccio una cosa faccio un ritiro direttamente al telefonino che lui così può farmi la richiesta del riconoscimento facciale incollo il codice pista me lo mando via telegram quindi in copia questo è un sistema casomai avesse avere qualche problema magari dalle cene in questo caso da by bit so prendo lo mando no quando sono note le mie note personali ecco qua benissimo adesso lo copia e lo vado a mettere direttamente in chiaro da un solo amputista grafico qualche volta può capitare che uno abbia un problema magari che ne so che non funziona qualche pezzo di programma però non è un problema si può fare un'altra strada in questo caso magari il fatto lui non ha funzionato c'era un problema di settaggi può essere qualunque cosa uno trova un'altra strada quindi io praticamente mi sono mandato sul telefonino il codice eccolo qua copio codice e lo incollo direttamente nel telefonino paste consenti incolli incollaggio controlliamo adesso controlliamo le prime lettere 0x sempre tutti quanti il protocollo a beppenti 9 4 3 b 9 4 3 b e poi finisce con 1 e 3 1 e 3 e a 1 e 3 e a perfetto e quello dopo di che dobbiamo mettere il netto giusto sempre qualunque caso anzi sul telefonino ancora peggio che il computer se ne accorge e ti le seleziona quelli sicuramente sbagliati sul telefonino no sul telefonino non se ne accorge quindi dobbiamo mettere 3.015 dollari virgola la fi la fisce lo dice lui e 0 3 quindi virgola 3 che per lo certo converte in punto perché la notazione inglese molti e c'è giusano quella questo parla solo in inglese quindi chiaramente usano la notazione inglese by bit in particolare quindi che cosa facciamo diciamo guidrò ok pronto a posto vedrò bep 20 l'indirizzo è quello di giusto 9 4 3 b 9 4 3 b bisogna sempre controllare mi raccomando è che se il codice finalmente il codice è arrivato sarà arrivato eccolo qua non si riesce perché sul computer non è venuto sul telefonino sì però questo momento non ci interessa andiamo mettiamo prima il codice sulla mail che tanto non cambia e poi andiamo sull'autenticator che può essere google autentica e trovo io preferisco altri perché una politica di ci sono presidente ecco qua i bit codice incolliamo consenti ok abbiamo ritirato i soldi a buy bit e mandato sull'indirizzo sull'indirizzo e quindi possiamo andare a vedere la storia del withdrawal in questo caso l'operazione non abbiamo più bisogno di farla qua anche perché non abbiamo più i fondi abbiamo appena mandati e questo è una delle caratteristiche al blocce non permette la doppia tassazione vedete in questo momento non ci sono più osd t posso andare a vedere il mio la mia storia history trasferimento di 2800 dollari ci sono tutti quanti i soldi che sono arrivati da by bit da life minor e questo è il trasferimento che ho fatto per caricare su life minor ovviamente diciamo stiamo parlando siamo in famiglia quindi io posso tranquillamente e dare i soldi a mia moglie e lei dare i soldi a me non ci sono problemi allora spero che questa che questo diciamo video sia utile basterà a questo punto aspettare semplicemente il tempo per cui l'operazione avviene diciamo secondo loro stanno ancora 10 minuti ma attenzione non è un problema perché praticamente il meccanismo funziona anche se diciamo ci fossero dei ritardi e non non arrivassero i soldi entro i 10 minuti comunque normalmente in 5 minuti già sono arrivati quindi mi è capitato una persona che ha usato un exchange molto molto poco buono molto molto poco valido non vi dico adesso il nome evitiamo praticamente questo exchange ha lasciato in pending una giornata intera la sua una somma ridicola tra l'altro se parlavamo di 50 dollari sono arrivati quindi il giorno dopo beh nessun problema life minor e questo ve lo posso vi posso tranquillizzare anche un caso del genere come sono arrivati i soldi li ha aggiunti e quindi si è trovato i 50 dollari che aveva mandato tranquillamente diciamo inseriti in rete non erano in porto grande quindi figuratevi in questo caso quindi noi abbiamo 2000 dollari e qua ci sono dobbiamo averne il 5 per quindi 10.000 meno quello che già abbiamo incassato quindi 1104 più 11 che sono già arrivati dobbiamo mancare incassarne 8.884 cosa succede che venendo a versare altri 3.000 questi diventeranno 5.000 e qua si aggiungeranno altri 15.000 5 volte tanto ancora per diciamo a questa somma per avere le stesse somme oltre per avrei dovuto versarne proprio in questo caso veramente 5.000 quindi chiaramente ho evitato di versare 2.000 questo è il motivo per cui ho preferito chiudere tutti i miei i miei trading dove ho guadagnato 500 euro non avrei potuto guadagnare 700 200 in più così facendo ne ho ho risparmiato che è ancora meglio che guadagnare perché non ci si pagano le tasse sui risparmi ho risparmiato 2.000 euro questa cosa spero che possa essere utile in ogni caso servirà anche col 3 per perché noi metteremo in cui metteremo 3.000 dollari mille dollari diciamo col 3 per che dobbiamo avere altri 3.000 se mettiamo 3.000 ovviamente 3 per dobbiamo averne altri 9.000 quindi questa somma diventerebbe 17.000 spero che questo video sia utile un abbraccio a tutti magari ci siamo un po' dilungati perché l'abbiamo fatto realmente in tempo reale quindi con tutti i possibili piccoli problemini che possiamo avere abbiamo visto che sul computer non partiva c'era qualche sciocchezza di problema per cui il pulsante non era attivo forse un errore di programmazione a livello di browser siamo passati sul cellulare l'abbiamo fatto lo stesso e adesso qui noi se andiamo ad aggiornare tra 5 minuti non vi voglio tenere qui altri 5 minuti a attendere questo numero diventerà 5.000 questo numero diventerà 13.884 e questa somma che sono 11.05 11 dollari al giorno diventeranno più 3.000 quindi sono 2.000 2 dollari per ogni 1.000 quindi più 6 quindi 11 più 6 diventa 17 dollari la cosa fantastica che con 17 dollari noi possiamo andare a ritirare praticamente tutti i giorni quindi un altro grande vantaggio che abbiamo avuto la possibilità di che per mia moglie di ritirare ogni giorno anche lei come già sto ritirando io spero che questa cosa sia utile il fatto poi di mettere soldi alle nostre moglie questo anche per gli investitori può essere una cosa utile perché chiaramente in questo caso crea quando si arriva a mille a mille dollari complessivi sotto di sé scatto un meccanismo dove la società ci considera delle persone che stanno collaborando al passaparola dell'operazione diciamo dove loro loro sono loro che vendono pacchetti mining che danno diritto a una partecipazione agli utili e quindi ci considera come persone che stanno facendo il passaparola stanno collaborando e quindi invece di darci il 2 per ci dà il 3 per il 2 per come sempre per sostenibilità dalle mind e pacchetti mining dove in pratica loro ci danno alla fine tutto quello che guadagnano i primi tre anni poi la macchina durerà 5 6 anni loro aspettano tre anni e poi hanno questa macchina gratis e guadagneranno per un paio d'anni e poi no ma il momento in cui la macchina non sarà più competitiva nella gara per fare per fare diciamo le transazioni bitcoin quindi non vincerà più sufficientemente tanto da essere interessante nel main dei bitcoin quella macchina può essere in qualche modo o venduta a qualcuno che faccia altre bloccine oppure avendo un prezzo così basso dell'energia avendo tutti gli spazi di proprietà non c'è bisogno di smontarla si lascia dov'è e si carica solamente il software che ne so del come già adesso fanno per un 1 per cento dell'iccoin dell'etheerium che sono comunque monete importanti monete assolutamente stabili che possono essere estremamente interessanti da minare e quindi loro si trovano gratis completamente gratis delle macchine per due anni e poi ancora gratis delle macchine per per sempre evidente fino a che saranno interessanti tecnicamente per andare a minare le coni bitcoin le coin e i tirium e altre monete che siano compatibili con la tecnologia di tipo provo work del bitcoin dico queste skill e per chi è un po più addetto alle ovuri che quindi può capire diciamo ancora più profondamente il nostro progetto dico nostro perché ho assolutamente sposato questo progetto in quanto sono un tecnologo sono un ambientalista l'unico difetto del bitcoin e di utilizzare molta meno energia dell'alternativa con risultati da notai da magistrati da dalle polizie tributarie di tutto il mondo dagli scuole e avvocati di che devono proteggerci e che non riescono a garantirci come può garantirci un'unica transazione in bitcoin è assolutamente inaccherabile inalterabile non immodificabile quindi siamo molto più garantiti ma comunque consuma ancora tanto bisogna dei sistemi di mining più efficienti da un punto di vista energetico allora l'unico però diciamo il bitcoin è ineguagliabile come affidabilità come sicurezza come anche stabilità del progetto che il vero asset a garanzia del bitcoin la stabilità del progetto non esiste un fondatore che può svegliarsi la mattina impazzire e decidere di fare sciocchezze cosa che magari anche in buona fede è capitato e quindi non si possono avere problemi si la perturbazione può arrivare un ilon musk e dice a da questo momento in poi le tesla si comprano in bitcoin il pb con schizza le stelle però nel momento in cui diciamo gli creano una serie di problemi a terra decide di lasciar stare automaticamente c'è un ingegnere informatico ha fatto tutto uno speciale su questa cosa io che io stimo anche molto il quale ha dimostrato come il bitcoin ha ripreso esattamente la traiettoria che aveva prima dell'annuncio quindi è stato alto per un certo periodo di tempo poi è arrivata la smentita il bitcoin è ritornato sulla traiettoria aveva viaggiato molto più in alto per ritornato sulla traiettoria che aveva prima dell'annuncio quindi è una moneta ormai stabile 55 per cento delle transazioni avvengono sulla blockchain e in questo momento ci sono migliaia e migliaia e migliaia di computer nel mondo che competono per avere il pacco che adesso sono oltre 300 mila 400 mila dollari il valore di questo pacchetto di bitcoin nel momento uno più del blocco e praticamente di questa cara ci sono 3.000 computer che sono i nostri mille nostri proprio diciamo di noi acquirenti dei pacchetti e 2.000 dell'azienda la quale chiaramente avendo un grandissimo margine di guadagno è anche un partner stabile sicuro affidabile il quale è in grado anche di anticiparci i soldi con il meccanismo degli acceleratori quindi non solo guadagniamo questo 72 per cento l'anno di cui il 36 per cento è utile netto reale a cui ci sono numeri quindi è il mio mestiere fare i numeri il 36 per cento e solo restituzione anticipata del capitale e le sono assolutamente anche compatibili con gli standard industriali perché questa è un'attività industriale noi diamo supporto alle vante delle transazioni esattamente come il circuito mastercard carta si solo che invece di farlo in una società bloccata dove non puoi entrare e avere quote lo facciamo in un sistema libero dove chiunque può mettere dei soldi da parte comprare un computer potentissimo e mettersi fare mining quindi non c'è bisogno di mettere soldi c'è bisogno di di comprare un computer di pagare la bolletta della corrente pagare i tecnici che te lo gestiscono e basta in questo caso non dobbiamo pagare proprio niente compriamo un pacchetto il computer già è stato ordinato portato installato montato configurato connesso alla rete testato e già messo in posti anche protetti sia da un punto di vista diciamo anche da un punto di vista termico perché chiaramente le energie assorbite si ritroveranno tutte quante per il principio di conservazione dell'energia si troveranno tutte quante come calore e quel calore va portato via nei climi caldi come in questo caso o addirittura riutilizzato nei climi freddi infatti per esempio fare mining in un clima freddo può essere un vantaggio perché ho quell'energia posso andare a valorizzarla a un centesimo a chilowattora no in particolare nel caso dei climi caldi invece io questo vantaggio non ce l'ho ma ho il vantaggio in questo caso di avere una seconda riga più grande del mondo che mi dà il prezzo più basso del pianeta siamo siamo molto più siamo più bassi dei costi che ci sarebbe che avremmo avuto in cina se la cina non avesse deciso di chiudere tutte le farme qui invece siamo in paraguai dove addirittura il governo ha puntato sul mining del bitcoin e per lo sviluppo del territorio avendo questa grandissima risorsa che produce energia per tutta la nazione addirittura la danno agli stati confinanti il brasilia del sud e l'argentina del nord ha detto ma perché io devo aiutare inutilmente gli stati confinanti io voglio sviluppare il mio territorio quindi punto sul mining del bitcoin e metto una serie di leggi a protezione del mining quindi noi siamo addirittura in un ambito protetto dove il governo assolutamente sta utilizzando il mining per sviluppare il territorio noi stiamo collaborando allo sviluppo di un territorio di un paese diciamo ancora abbastanza diciamo poco sviluppato che però un governo democratico che sta puntando sull'uso etico l'uso ecologico del mining e quindi noi contribuiamo allo sviluppo di un paese il terzo mondo contribuiamo alla diciamo ecologizzazione del mining del bitcoin contribuiamo alle nostre finanze personali perché sono redditi che si aggiungono ai nostri senza bisogno di lavorare granché io quanto posso aver perso adesso una mezz'oretta a fare questo video lo metterò diciamo lo manderò agli amici e quindi darò un contributo io sono un formatore gratuito in questo caso per andare a pubblicizzare questa operazione che da un punto di vista ambientale io trovo fantastica dal punto di vista sociale è ancora meglio perché fa arrivare risorsi anche in territori particolarmente svantaggiati infatti abbiamo un sacco di persone che lo stanno facendo per esempio in sicilia più sono svantaggiati i posti più le persone sono entusiaste di fare questa cosa nel mondo il vietnam sta esplodendo la colombia sta esplodendo sono territori che hanno avuto guerre hanno avuto devastazioni hanno avuto problemi vari per cui chiaramente un'occasione del genere per loro è fantastica nel meridione d'italia questa cosa estremamente apprezzata in sicilia anche però veramente c'è una rispondenza enorme delle persone a questa questa meravigliosa operazione dove noi come se entrassimo in società con il circuito mastercard carta sì ma con dei costi assolutamente accessibili e completamente personalizzabili cioè noi decidiamo di comprare invece di comprare un biglietto della lotteria per cercare di cambiarci la vita compriamo un pacchetto di mining qui dove praticamente con grazie al sistema degli acceleratori anche se abbiamo pochissimi soldi possiamo se abbiamo tanti soldi possiamo non dirlo a nessuno non avere neanche il disturbo di dover spiegare questa cosa a qualcun altro perché magari sono 100 mila dollari noi ci incassiamo 6 mila dollari al mese 3 mila ce li usiamo 3 mila restituzione anticipata del capitale che la rimettiamo in banca ora rimettiamo compriamo altri pacchetti questo è il mio la mia intenzione in questo momento ho portato solo 3 mila ma piano 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 l'intenzione di salire e diciamo di portare qui altri redditi altre cose per per salire questo questi pacchetti se invece hai persone che stanno in difficoltà vuoi aiutare persone che stanno in difficoltà vuoi condividere con gli amici questa opportunità puoi farlo la società ti ringrazia dando ti solo i soldi tuoi tu non prenderai mai un centesimo dai pacchetti acquistati ai tuoi amici ma te li da più velocemente quindi questa cosa io la vedo anche legalmente molto molto valida molto molto etica e anche compatibile con le leggi attuali quindi è una cosa che ancora più mi rende gradevole piacevole questa cosa poi il fatto che la società ci abbia invitato a vedere addirittura due leader dall'italia due leader dal sud rapica è un leader dal kenia quando sono andato io e abbia potuto vedere toccare con mano tutte le macchine andare a vedere a verificare i loro conti scopri addirittura delle generosità cioè loro pur di mantenere la parola loro dicono che ci danno il 75 per cento di tutto quello che viene prodotto ma hanno io controllati conti ho visto che non era vero ci davano di più e loro hanno tranquillamente ammesso sì perché noi per darvi subito le macchine mettiamo a disposizione le macchine che sono già pronte le macchine che arriveranno vostre sono molto più potenti molto più veloce potranno molto di più ma quelle che sono già pronte sono magari nostre macchine un po più vecchia oltre che producono un po di meno quindi in questo momento questi sono i conti sulle macchine che sono installate è vero un milione di dollari produce 56 mila dollari e come tu si è accorto noi vediamo 60 mila il problema non esiste noi possiamo anticipare qualcosa dalle nostre 2 mila macchine tanto alla fine diciamo noi comunque vi possiamo dare anche tutto quello che arriva per i primi tre anni poi le macchine restano a noi per altri due anni tre anni poi possiamo riciclarle su utilizzo di altre cose quindi sicuramente noi abbiamo tutti i margini necessari a noi basta il 48 per cento delle somme entrate siamo già al 51 in realtà noi possiamo avere anche un cento per cento sulle somme entrate voi un cento per cento e noi un cento per cento quindi qualcosa su cui a noi non serve così tanto ci basta il 48 siamo al 51 quindi siamo oltre quello che ci serve e quindi praticamente è un sistema dove tutti quanti vincono siamo stati due tre anni per trovare un sistema assolutamente generoso ma totalmente compatibile alla fine l'abbiamo trovato e quindi siamo entusiasti di potere condividere col mondo questa opportunità e io sono entusiasta di potere fare consulenze gratuite di tipo informatico ovviamente ribadisco io non sono un non sono un consulente finanziario molti amici mi dicono che dovrei prendermi queste autorizzazioni perché ovviamente ho delle basse informatiche che mi rendono prezioso per questo tipo di attività io però continuo a fare il consulente informatico ho anche tanta di partita iva che non significa che mi dovete pagare qualcosa assolutamente lo dico solo per dire che sono assolutamente in regola con tutti con con la legge con diciamo da un punto anche diciamo legale la mia una consulenza informatico vi ho fatto vedere come si fa a avversare come si fa a prelevare da un exchange come si fa anche a risolvere il problema nel caso in cui fosse un minimo di difficoltà cosa che può succedere che magari in quel momento il computer si è impallato perché magari c'è stato un micro sbalzo di tensione che ha azzerato una zona di memoria e quindi non funziona il pulsante poi basta spegnere e riaccendere il computer funziona il resto della vita ma quella volta magari non funziona cliccavate il pulsante non funzionava semplicemente siamo andati col telefonino abbiamo fatto la stessa operazione col telefonino nel frattempo io chiacchieravo sicuramente i soldi potrebbero anche essere arrivati sicuramente mai probabilmente potrebbero anche essere arrivati andiamo a vedere esatto abbiamo adesso 5 mila dollari di contratti attivi con 14 mila 884 dollari da avere ancora adesso una delle cose è un bonus che sono fino al 25 noi abbiamo chiesto di farlo fisiologico ma il problema è che come abbiamo detto questi 3 mila dollari vanno tutti a fare il lavoro e loro ci hanno anche detto come viene fatto questa cosa c'è il 75 per cento lo sono per comprare le macchine 5 per cento sono costi amministrativi e di servizi vari il 20 per cento un po di liquidità da cui attingono per qualunque tipo di sorpresa poi hanno anche le assicurazioni per cui mettiamo che scende un fulmine incendia un container intero di macchine non è un problema noi prendiamo gli stessi soldi oppure magari ci sono dei lavori sulla diga per cui razionano la corrente per cui devono tenere spente alcune macchine è capitato quando siamo andati a fare la visita c'erano delle macchine spente noi abbiamo preso neanche un centesimo in meno prendono possono anticipare dal pool di liquidità o possono anticipare dai pool di liquidità che loro hanno in bitcoin quindi dai soldi loro dei guadagni delle macchine quindi comunque nulla va in tasca nostra però loro che cosa fanno ogni tanto ci attivano un premio di avvio rapido dove di tasca loro ci danno un 10 per cento in questo momento è attivo usciamo dall'account e andiamo a vedere l'account della planer di mia moglie che sono io quindi vado mao modizio i ovviamente qua ci sono molti account le cui password sono state cambiate quindi non funzionano più perché ho aiutato le persone come consulente informatico gratuitamente ovviamente ci tengo a specificare è molto importante questo punto qua dentro anzi a volte dico ragazzi voi volete investire soldi sulla vostra formazione va benissimo è perfetto però potreste anche non investire nulla cioè potreste anche partecipare a un'operazione del genere comprate dei pacchetti di mining noi all'interno della diciamo dell'attività la formazione le facciamo gratuite quindi noi non dovete comprare nulla non dovete pagare nulla di formazione perché è un'attività di tipo solidale noi per motivi diciamo di praticamente nel network in generale fatto bene ognuno cerca di fare di tutto per insegnare tutto quello che sa ai propri collaboratori in modo tale da moltiplicare la sua capacità in varie persone questo avrebbe una cosa molto bella se fosse fatto in generale nel mondo succede solo nei network network guidati da capi etici noi abbiamo la fortuna di avere una bellissima capa a capo dell'europa bellissima diciamo soprattutto come testa presidente che sta facendo un bellissimo lavoro e io sono molto contento di averla incontrata devo dire che non è un caso perché ho conosciuto persone che la conoscono da cinque anni sono stati con lei in altre attività la mia upliner e una sua amica la conosce da tanti anni e mi dicono che lei è così sempre è sempre stata così infatti ha una grandissima stima anche le altre parti e quindi siamo doppiamente fortunati abbiamo trovato un'attività straordinaria con un leader straordinario cui ho il piacere di collaborare ogni giorno che interviene tantissimo ci dà una grandissima mano anche se lei ci ricorda non che non è la nostra cameriera quindi dobbiamo noi lavorare fare il nostro lavoro e poi lei ci aiuta tantissimo come io cerco di aiutare tantissimo e ho il piacere la gioia di aiutare tantissimo la mia squadra però mi raccomando aiutare va bene a sprofittare no quindi ognuno magari si impegna a crescere il più velocemente possibile per potere lui aiutare poi le proprie persone e potere continuare questo circolo virtuoso dove noi ci aiutiamo gli uni con gli altri dove ci assistiamo gli uni con gli altri ci sostituiamo gli uni con gli altri magari può darsi che una persona impegnata e l'altra persona interviene ed è bello devo dire la verità poi alla fine la cosa fantastica che ti trovi ad avere a notare che le tue più grandi amicizie le trovi nei network seri che hai avuto il piacere e la gioia di incontrare detto questo ho chiacchierato veramente troppo spero che queste tutte queste chiacchiere vi siano state comunque utili un abbraccio a tutti e alla prossima chiacchiere vi siano state